Salve a tutti ragazzi, belli e brutti e miscritti, più di tutti, bentornati su Giovec Dispo Io sono Giovec Dispo e questa è, come state vedendo, l'apertura della web app di FIFA 15 Ultimate Team Allora, i dati sono sempre quelli, nome club, ripetiamo Giovi No, il nome club, possiamo mettere un nome club Vediamo, vediamo, che nome? Nome, 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 UU, 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 Giovec Dispo Giovec Dispo G-S, G-A-C-D-S, G-S Perfetto, sei sicuro? Sì, tanto potrei risicurare Con questo account ho fatto più di 400 partite, quindi, quanti pacchetti daranno? Non so Gioco da FIFA, da FUT13, quindi molto molto bene Volevo dirvi che farò anche un tutorial sulla squadra esperimentale, farò vedere un po' come funzionano Quando avrò capito io, lo farò capire a voi Dunque, finito questo caricamento, il primo pacchetto, chi ci esce? Chi è questo? Moor, saltiamo, vabbè Vediamo, Nessid, merda Vabbè, Luis Neto Questi qua non sono scambiabili Prosegui Eh, appunto, ho detto che da novembre 2013, i miei pacchetti continuano Quindi, pacchetto opening Subito, così per iniziare bene il FUT Dovrebbero darmi anche il dono giornaliero Visto che è uscito ieri Bah Cioè, oggi è 19 È uscito il 18, dovrebbero darmi il dono giornaliero Credo, eh, non sono sicuro, guarda Vabbè Dettagli Faccio un breve pacchetto opening Poi faccio le squadre sperimentali Sperimento qualche squadra Qualche, vediamo un po' Ecco qui Pacchetto, argento, regalo Perfetto Solo due pacchetti Peccato, peccato, vabbè Apriamo questo qui Disponibile Salta Legali Non mi piace Nuova forma dei contratti, vabbè Contratti conserva tutto, conserva tutto, conserva tutto nel club Crediti zero Molto, molto male Non vi preoccupate, ho anche un altro account Nel quale ho fatto più di mille partite Quindi Non vi preoccupate Pratto Pratto Iago Waspas Chi è questo? Westwood Interessante, interessante Potrebbe valere anche un bel po' Meyer e Long Questo è il bagatone Long Interessante, interessante Molto interessante È arrivato a oro Meyer, buono Eh dai Non posso lamentarmi Come primo pacchetto Va tutto Va insomma Va bene dai Apriamo il prossimo Disponibile Vedrete anche Episodio di compra vendita Su Ultimate Team FIFA Italia Lennon Lennon Pacchetto Lennon 92 di velocità con 83 di tiro 83 di tiro 63 di tiro Lo so ciecato io 3 ore addirittura Ottimo Bromby Rubena Amorim E Olan Okoa Vabbè Conserviamo tutto nel club Vediamo Volevo vedere Le trasferimenti Un po' Vediamo Chi c'è sul mercato E a quanto Per vedere un po' Come sono sti prezzi Io vi consiglio Naturalmente Quando esce il gioco Vendete Dunque Ora Vi faccio vedere un po' Le trasferimenti Vediamo Voglio mettere anche Così Più di 100.000 Chi c'è da più di 100.000 Vediamo Hanno già trovato Leaf An Kabaye Toure Toure 125 Nessuno se la compra Vabbè È normale È normale Dai Warin Lam Però che cazzo Non bisogna venderli ora I giocatori Memar 4 milioni Chi se la compra Chi ha 4 milioni Ora Nessuno 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 Quando uscirà il gioco Allora sì Sinclair Va Muoviti però Web up Muoviti Io sto registrando Quando c'è poca affluenza Diego Costa Casillas Robben 6 milioni No cazzo No cazzo Ho il cazzo Se miglioro Rosa attiva Squadra sperimentale Perfetto Perfetto Vabbè ci sono delle Bodine Non mi anticipo niente Vi farò il tutorial Vi farò il tutorial Allora Passo all'altro account E apriamo altri Pacchetti Dunque Non va Niente Niente Me ne ho dato Quattro pacchetti Più uno Vabbè Vabbè C'è un pacchetto bronzo Con 12 oggetti 10 bronzo Di cui uno raro Salta Salta Vediamo Niente Vabbè Io conservo tutto Mi tengo tutto E va a fare un gappa Che mi interessa Santeramo Nuovo stemma Mo Mo Avrei i miei dubbi Allora Amblablaci Ciccocco Tre civette Sul com Mo Questo Pacchetto solo giocatori Pacchettucs Pacchettus Dai Include Quattro bronzo Quattro argento Quattro orvi Qui almeno Uno raro Dai Namo Gira gira Tondo Quando è bello il mondo Cento Cinquanta La gallina Kanda Muoviti Ah Ok E sono già usciti In sostanza Vediamo Chi esce Chi è Tore Tore 79 di fischi Chi è Luis Neto Lucas Biason Beh in sostanza Qualcosa c'è Stankovic Stankovic Ah ma non è Stankovic Nell'Indo Luis Neto Almubark Ottanta di velocità Interessante Moses Moses Buono Buono Andattolo Leston Villa Blackstock Chi è Chi è questo Tore Tore Chi è questo Così Vabbè Dettagli Conserviamo tutto nel club Per fare compravendita Devo a forza trovare Dei crediti Devo scartare qualcosa Quindi Vediamo 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 Oooo Chi è Chi è Chi è Babel Silvio Buono Fletcher Vediamo 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 qui Se posso scartare qualcosa Questo Si può scartare Quindi devo Iniziare a scartare Un paio di cosine Questo si scarta Scartiamo Così almeno faccio un po' di 100 crediti Perché mi serviranno i crediti Per la compra Bendita È naturale No Ma dai Muoviti Eccomi ritornato Purtroppo Squadra della settimana Quanto è brutto Sto scherzando Questo volevo scartare Non sono riuscito a scartarlo poc'anzi Vediamo Vabbè, io ora li tengo Questi qua potrebbero sembrare buoni Ma poi li venderò tutti Ho bisogno Cos'è questo? Ah, pacchetti Aspetta, volevo vedere un attimo i pacchetti 7500, nuova forma Ah, guarda, va Messi, Hazard No, chi è questo? Chi è questo tizio? Sarà Griezmann probabilmente Vabbè Ora ci mancano questi qua Ora Vediamo se torniamo indietro e facciamo così niente Vabbè Dai Facile.it 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 Al cazzo Al cazzo Ah, beh, beh, beh Un bel contrattino Forma fisica Vieni, vieni Finalizzatore Rios Questo scarto Non me ne freggo un cazzo Rios Rios Batten Batten Da 100 credit ho già Buono, buono Negozio Disponibile Apri pacchetto Salta Questa volta salta Allora, di nuovo contratto Manolas Beh, allora credo di dover iniziare con una serie A Manolas 79 di velocità Ottimo Pintalli Beh, questo posso scartare Vabbè Dunque Questo primo pack opening della web app di Foot15 è terminato Se il video vi piaciuto lasciate un bel pollice all'insù Iscrivetevi al canale se non siete già iscritti Qui è Giovispo Vi saluto Vi ringrazio Ci vediamo Alla prossima Anzi A oggi A Poco A qualche ora Con un nuovo video Ciao E alla prossima